Saldi anticipati al 3 luglio e in più svolgimento delle vendite promozionali già dal 3 giugno. Questa è la decisione presa dall'Aggiunta regionale con l'obiettivo di sostenere il commercio al dettaglio fortemente penalizzato dalle chiusure del contagio e costantemente assediato dalle vendite online. Una decisione che però divide i commercianti con il presidente regionale Patrizio Bettin che plaude al provvedimento mentre lascia decisamente più perplesso Guido Pomini, numero uno di Federmoda Treviso. È il pericolo che si innesti un liberi tutti in cui ognuno segue un po' la propria strada. Sconti anticipati a seguire saldi estivi già dal 3 luglio rischiano di azzerare i guadagni penalizzando ancora di più i commercianti. L'idea è che si rischia di vendere ma senza guadagnare. Eh sì, questo è quello che purtroppo potrebbe succedere, non conto se lo fai per un mese e mezzo d'estate come era successo l'anno scorso, agosto e settembre, ma se sei costretto a farlo già magari a metà giugno e devi tirare fino a settembre, magari la merce ti esce dal magazzino, però tu non guadagni. Secondo Pomini era meglio seguire le richieste che Federmoda aveva fatto alla regione. In Confederazione Moda Italia si era individuato il 17 luglio come una data di mezzo che potesse mettere d'accordo chi voleva partire prima e chi voleva partire dopo, però evidentemente come spesso succede le date di mezzo sono date che non piacciono a nessuno. Ecco, chi è che ha anticipato? Ma sembrerebbe che su questo abbia spinto molto la Lombardia, il Piemonte, quelle regioni che storicamente partono prima e che anche quest'inverno infatti sono partite mi pare appena dopo l'Epifania. Ora non resta che sperare in tanta clientela, magari attratta anche dalle aperture serali e dall'annullamento del coprifuoco alle 23. L'acquisto di necessità, ripeto, è un acquisto, come dire, legato alla programmazione, all'acquisto di impulso, laddove uno se lo possa permettere, è legato alla frequentazione. Quindi se la città è più frequentata verso sera piuttosto che il primo pomeriggio, forse ripensare anche al proprio approccio in una logica di seguire la domanda, io credo che sia non solo un'opportunità ma forse addirittura una necessità.